Bene, dimete quando partiamo? Partiamo, partiamo ora. Ciao a tutti, oggi siamo qui con Stefano Montana, un ragazzo che all'età di 25 anni, dopo essersi laureato e partito da Roma, ha creato un business nel dropshipping e nell'e-commerce e nella creazione di brand per e-commerce, fatturando migliaia e decine di migliaia di euro ogni mese. Buongiorno Stefano. Ciao Daniele, grazie mille per l'invito. Grazie a te per essere, per aver partecipato. Allora, come di consueto partiamo con una prima domanda che è quella che ci aiuta a capire chi sei per chi non ti conoscesse. Raccontaci un po' la tua storia, da dove sei partito e dove sei arrivato. Allora, io sono un ragazzo romano, nato e cresciuto a Roma, in zona Piazza Bologna, che comunque per chi non lo conoscesse è zona vicina alla Sapienza. E ovviamente dopo il liceo, come molte persone, molti ragazzi soprattutto, intraprendono questa via universitaria, questa strada universitaria, e cercano comunque di laurearsi e crearsi una vita, ok? Dal punto di vista lavorativo. Ora, io ho sempre, diciamo, mi sono sempre sentito un po' ingabbiato durante questo periodo scolastico, sia per quanto riguarda il liceo, sia per quanto riguarda l'università. Nonostante tutto, all'università mi sono laureato prima in economia aziendale, sempre alla Sapienza, e magistrale, con 110, senza lode, perché non me l'hanno data. E comunque, cioè non mi interessava proprio perché io già avevo realizzato che non volevo lavorare per qualcun altro, non volevo lavorare in un'azienda, oppure come mi è capitato, come aiuto commercialista, cose del genere. Comunque all'inizio sono cose che si fanno, la gavetta e cose del genere, no? Soprattutto quando, durante l'Erasmus, perché l'ultimo anno di università andai in Erasmus, a Praga per la precisione, e conobbi questo ragazzo che faceva, tra virgolette, business online. Questo ragazzo che poi divenne il mio conquilino, con il quale uscivamo tutti i giorni, andavamo a gioca a pallone, vabbè, tutto insieme, perché praticamente viviamo insieme io e lui. E niente, la differenza è che lui aveva lo stesso mio stile di vita, con la differenza che faceva una cosa come 200 euro al giorno, netti. Io lo guardavo questo, che gli arrivavano 20.000 euro, con i miei occhi, non me lo scorderò mai, bonifici da 20.000 euro da Google, che è praticamente lui che faceva. Faceva delle app, delle app per Android, e grazie a queste app, l'agente utilizzava le app, vedeva, sai che c'è la pubblicità nelle app, come tutte le app, gratis. Cioè, la pubblicità è lui, con questa pubblicità, cioè, ovviamente queste app lui le sviluppava, faceva pubblicità, e poi per farle installare, eccetera, eccetera, e poi l'agente utilizzandole, cliccava sulla pubblicità e lui ci guadagnava. E allora io ho capito che da quel momento, vedendo lui, toccandolo con mano, toccando questa vita in libertà totale, con i soldi, molti più soldi, della maggior parte degli italiani, delle persone nel mondo, che possono guadagnare in un mese, lui li guadagnava senza fare nulla, senza fare nulla, cioè, ovviamente ha lavorato prima, poi però è super passive income, vero e proprio, e allora mi sono innamorato di quella vita, perché è la vita proprio, cioè, la vita in Erasmus, penso, è la vita più in libertà, più vera che ci possa essere, cioè, lì davvero fai quello che vuoi dalla mattina alla sera, e però, e a quel punto, cioè, lui veniva anche pagato per fare questa vita, cioè, non è che veniva pagato per fare questa vita, però hai capito, diciamo, che guadagnava. Se la poteva godere in libertà senza pensare ai costi. Esatto, esatto, e allora io da quel momento, diciamo che non sono più stato lo stesso, diciamo che la mia vita, il mio modo di vedere le cose è completamente cambiato, ho capito che con internet si può veramente fare di tutto, fare i botti, fare un sacco di soldi lavorando dal computer, e soprattutto non dovendo lavorare, per esempio, dieci ore fissa al giorno, andando al lavoro, spostandoti da casa, quando vuoi, dove vuoi, libertà assoluta, e soprattutto con molto, molto, molto più potenziale rispetto al lavoro normale, tradizionale, che comunque è bene che ti va dopo decine di anni, magari arrivi a prendere 2.000 euro, quando lui, che era a quei tempi, penso aveva 21 anni, una roba del genere, stava già facendo 6.000 euro, ma proprio così, cioè, non so come spiegarlo, ma veramente in maniera facile. Comunque, quello che fa lui è difficilissimo, infatti ci ho provato, ho fallito miseramente, però da quel momento poi ho capito le potenzialità di internet, mi ha aperto un mondo, ho scoperto in quel periodo il dropshipping, ovvero la vendita di prodotti fisici tramite principalmente piattaforme di e-commerce come Shopify, che è la più famosa, la più semplice da usare, è per quella che è proprio così famosa, perché tutti possono usarla senza conoscere codici, possono lanciare il proprio brand in un giorno, io ormai in un giorno faccio sito web, campagne, e già dopo un giorno praticamente riesco a guadagnare, riesco a andarci sopra. Però ovviamente questo dopo anni di esperienza, all'inizio se tu impari ci metterai una o due settimane, se sai quello che fai, quello che stai facendo. Per il resto poi ho continuato, ho continuato, non mi sono mai fermato perché comunque guadagnavo sempre di più, con il passare del tempo, all'inizio non è stato facile, anzi ho perso un sacco di soldi anche all'inizio, roba di 100 o 200 ore al giorno dei Facebook Ads, considerando anni fa che costavano ancora di meno i Facebook Ads, in teoria c'era meno comprensione, però c'erano anche meno informazioni, cioè era un po' tutto all'inizio, tuttavia nonostante tutto ero partito malissimo, però cioè alla fine è andata bene, dopo aver perso 1000-2000 euro così nel fumo, alla fine è andata bene, ho iniziato a vendere, 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 non mi sono più fermato, quindi questo è diciamo l'inizio, come è iniziato tutto. Ok, in questo momento invece qual è la tua situazione? Dopo 4 anni, giusto? Praticamente sì, ormai stanno al 2020, diciamo 3 anni e mezzo, possiamo dire che nel 2019 sono uscito a fatturare più di un milione di euro, mi pare un milione e due, roba del genere, ovviamente di fatturato, poi le lavati costi e tutto quanto sono molto meno utili, stiamo intorno al 25% più o meno, e tuttavia ho iniziato a capire che il mio metodo è un metodo che si può insegnare ad altre persone perché Shopify è semplicissimo da usare e Facebook Ads sono accessibili a chiunque ormai perché con 5 euro in Italia per esempio il CPM è il costo per mille visualizzazioni di 5 euro, può essere comunque abbordabile da chiunque, ok? Quindi con poche centinaia di euro chiunque può iniziare il suo business online su Shopify attraverso il dropshipping che ti permette di non comprare i prodotti in precedenza ma comprarli solamente dopo che il tuo cliente ha comprato da te, nel tuo negozio Shopify, il tuo brand, il tuo sito web. E allora ho iniziato comunque a creare il mio corso, il mio programma avanzato, a fare consulenze, quindi a creare un'agenzia di e-commerce specializzata in e-commerce che aiuta non solo chi vuole partire da zero ma anche imprese, imprenditori che sono già avviati però vogliono aumentare i loro risultati, moltiplicare il loro ROI, ovvero il ritorno sull'investimento e quindi ovviamente incrementare il raggio del loro business, del loro brand e-commerce, va bene? Quindi principalmente in questo momento sì, mi trovo con il mio punto principale adesso in questo momento l'agenzia di e-commerce e il mio programma avanzato, però diciamo che fino a dicembre, gennaio c'era tutti gli store aperti, poi ho stoppato un attimo gli store perché comunque ancora non sono onnipotente quindi non esco a fare tutto io direttamente da solo, ovviamente mi faccio aiutare anche dal mio team e tutto quanto però comunque quello che conta ho notato che è buonissimo avere diversi business, diverse entrate che comunque ti aiutano a, soprattutto magari in momenti di crisi, se non funziona un business funziona un altro quindi comunque tu hai sempre un flow, un cash flow in entrata però ho notato che è molto, riesci a ottenere molto di più se ti focalizzi su un business alla volta, va bene? quindi in questo momento vorrei focalizzarmi più dal punto di vista del personal branding e del consulting quindi coaching, non for you, però anche sicuramente quando vedo un prodotto che mi piace perché comunque sto ogni giorno a smanettare sui Facebook ads, a vedere quello che vendete più cioè praticamente ci nuoto tutti i giorni nel mondo e-commerce quindi ti capita anche su Facebook, ti capita quindi in products parto uno o due giorni, lancio tutto e lancio gli store ormai quindi vado in automatico Ok, qual è stato secondo te il momento all'interno di questi tre anni che ti ha permesso, cioè un momento catartico che ti ha permesso di cambiare totalmente la tua mentalità da quella che tu ora vedi negli altri ma che senti che non ti appartiene più? Allora, questa è una bella domanda perché per esempio con i miei amici, i miei amici di Roma i miei amici di infanzia, sono sempre in buoni rapporti però ho notato che comunque abbiamo molti meno cose in comune, va bene? Per esempio quando parlo con loro, cioè magari un gruppo di 5-6 persone noto che mi metto a parlare sempre di business, sempre di soldi, sempre di affari, cose del genere e manco non me ne rendo nemmeno conto e mi metto a parlare sempre con uno di questi ragazzi, di questi amici miei che invece è più orientato verso il business, che ha un business eccetera eccetera quindi comunque questi sono amici, ti parlo di davvero 15 anni, cioè delle medie anche è vero che a Roma ci starò tre mesi l'anno giusto per la famiglia, perché mi manca la famiglia, gli amici e tutto quanto però sto sempre in giro, quindi quei pochi mesi che sto in Italia nonostante tutto parlo sempre di business che a un certo punto rimane in automatico come se tu davvero avessi installato il codice del business Ok, cioè quindi è come se ci fosse stato un momento nella tua vita in cui per esempio tramite quel ragazzo dell'Erasmus in cui hai detto cacchio, cioè le regole del mondo non sono quelle che mi sono state raccontate cioè tutte quelle regole sono una balla colossale quindi ora devo ricalibrare tutto Esatto, diciamo che per quanto mi riguarda il liceo e l'università sono sempre stati per me che non ho mai voluto fare nulla diciamo una via per non lavorare lo dico perché mia madre mi diceva sempre o lavori o studi allora ho detto vabbè studio perché tanto alla fine non faccio niente pensa manco andavo a lezione nonostante io abitassi a 10 minuti a piedi da casa cioè proprio piazza Bologna 10 minuti a piedi dalla Sapienza mentre manco volevo andare all'università a lezione cioè studiavo tutta la casa perché non mi andava di svegliarmi quindi sono sempre stato un po' contro le regole sei stato un pioniere dello smart studying quello che ora sono costretti tutti a fare chiamiamolo così diciamo che era più lazy working ok diciamo andavo all'università più perché per una cosa che dovevo fare non perché mi andasse cioè infatti mi sono lavorato non so manco come ho 110 perché alla fine non lo so diciamo che non è qualcosa che mi appassionasse però vabbè capivo che comunque avevo capito che non faceva per me alla fine quando è fine tutto quanto soprattutto dopo aver incontrato questo ragazzo e quando capisci che ci sono davvero persone che fanno migliaia e migliaia di euro ogni giorno come mi è successo a me di fatturare più di 15.000 euro ogni giorno cioè capisci che non esiste più 1.500-2.000 euro al mese cioè non vuol di niente ma andare a lavorare 8-9-10 ore al giorno in un posto con persone che non ti interessano cioè proprio come per costrizione cioè ho capito che è assurdo che io personalmente non potrò mai più tornare indietro come quando tu pillola rossa o pillola blu esatto come i metrics esattamente esattamente io ormai non posso più tornare indietro quindi vado avanti per la mia strada non mi interessa anzi sono convinto che mi ha detto anche abbastanza mi ha detto bene perché secondo me ho imboccato la strada giusta in quanto cioè ora piano piano ogni giorno ci stiamo indirizzando sempre più verso questo mondo digitale la gente secondo me inevitabilmente soprattutto adesso non può più un po' più nascondersi non può più nascondere il fatto che il business digitale il lavoro digitale con il computer è la realtà è interessante vedere una roba c'è anzi due cose la prima è che cioè che effettivamente molti dei ragazzi che hanno la tua o la mia età alcuni si trovano senza lavoro a cercare scuse per non lavorare però senza alternative esatto altri rischiano di aver di perdere il posto di lavoro perché magari per chi non ha un lavoro da ufficio che può fare smart working c'è il rischio che chi sta in cassa integrazione chi in altre situazioni finanziarie non molto gradevoli possa non ritrovare il posto rientrato da 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 questa pandemia la cosa che mi sconvolge perché cerco di guardare sempre i due modi di vedere la cosa per cercare di analizzarli no che tu quando hai visto quel ragazzo in Erasmus avevi già due scelte e lì fa capire qual è la differenza del tuo mindset rispetto a un altro perché in realtà la maggior parte delle persone cioè quante persone poteva conoscere questo Erasmus io immagino tante però a te ha dato un effetto diverso dagli altri perché per gli altri probabilmente guarda probabilmente uno che sta fregando da qualche parte probabilmente uno che ha avuto tanta fortuna probabilmente c'è trovano comunque una scusa per motivare il suo successo e per non muoversi perché comunque tu là non hai detto lui ha avuto fortuna tu hai detto cacchio se lui ci è riuscito non c'è nessun motivo al mondo per il quale non ci possa riuscire anch'io ok e l'altro ostacolo e qui ti voglio fare la domanda e c'è l'altro ostacolo sul quale si fermano molti tu hai detto io sono arrivato a un punto dove non ho perso 100 euro ho perso 1000 2000 euro ho iniziato malissimo e qui di quell'1% che era rimasto e aveva detto ok non è fortuna dipende da me in quell'istante cioè quando ha perso 2000 euro l'altro 99% di quell'1% ha già tagliato tagliato corto e se ne è scappato invece tu sei l'1% dell'1% che ha detto cacchio non me ne frega cioè non ci sono riuscito continuo finché non ho finito tutto finché non ho neanche un centesimo in tasca e poi me ne ritorno a casa e farò qualcos'altro cos'è secondo te che ti ha permesso di fare questo scatto diverso dagli altri guarda allora intanto hai detto una cosa giustissima perché io ho pensato esattamente questa cosa ovvero che se c'è riuscito lui perché non posso riuscirci io cioè lui era ragazzo uscito con 60 da non mi pare l'industriale sti licei qua cioè liceo questi vabbè queste scuole qua che in teoria io ancora mi ricordo la gente diceva eh il liceo è per chi vuole studiare tutte queste cose per chi vuole andare all'università ancora faceva questi paragoni invece quell'alberghiero chi vuole andare vabbè e io mi ricordo che ebbi questo pensamento intanto sì lui proprio con 60 anzi è pure cioè di origine non italiana quindi è nato e cresciuto in Italia però di origine non italiana questo ragazzo e niente appunto ho pensato perché non posso riuscirci io cioè perché dove sta scritto cioè è davvero la persona partita più in basso possibile la famiglia non è assolutamente ricca anzi cioè perché non posso riuscirci io perché e soprattutto guardo a quello che hai detto dei soldi dei 1000 e 2000 euro cioè io diciamo da questo punto di vista ero super deciso nel senso che avevo fatto l'in già cioè avevo già deciso io voglio fare questa vita voglio ancora per un po' di anni vivere in Erasmus guadagnando soldi vivendo dove voglio come voglio senza capi senza orari facendo quello che mi pare dalla mattina alla sera questa è stata diciamo la motivazione principale che mi ha spinto a in questo mondo va bene e principalmente ho detto guarda io ho meno di 5000 euro mi pare 4008 una cosa del genere questi sono tutti i soldi che c'è da parte dalle crisime dai compleanni le comunioni tutti l'abbassati no i soldi messi da parte ho detto non me ne frega niente io faccio l'in spendo tutti i soldi male che va torno a casa da mia madre e mi trovo un lavoro cioè questo era il cioè il peggio che mi potesse capitare ok cioè fortunatamente non c'è casa di mia madre non è che andavo a vivere in mezzo a una strada dici vabbè sei fortunato che c'è una casa sì ok però penso la maggior parte della gente più o meno ha un posto dove vivere no quindi alla fine sono sempre stato una persona normale cioè un ragazzo normale e tutto quanto però cioè io ho fatto proprio l'inna sia mentalmente sia materialmente ovvero ho detto non mi interessa investo tutto quello che ho in questo perché è il business più facile cioè il business veramente più facile che puoi iniziare con un basso capitale e soprattutto ti impara tantissimo ti impari a vendere prodotti fisici attraverso il tuo sito creare un brand email marketing facebook ads facebook ads ormai fondamentale è pane quotidiano cioè devi sapere come conoscere l'inglese cioè devi sapere parlare inglese ormai instagram influencer cioè davvero impari tantissime cose e soprattutto la cosa bella con dropship che non comprai prima quindi non dovevi investire in stock quindi faci la pubblicità male che va basta non dovevi pensare a vendere magazzino cose del genere quindi era il business migliore soprattutto in quel periodo che c'era poco poco budget quindi principalmente la forza che mi ha spinto era sì questa determinazione che volevo a tutti i costi sfondare e veramente col cuore non mi interessava proprio del fallimento detto male che va farò la vita come tutti quanti cioè questo è che in verità è quello che cioè è quello che spaventa molti cosa succede se fallisco eh niente cosa succede rimani dove sei cioè se tu parti da zero male che va rimani a zero ok è questo è questo che la gente non capisce ma quanto devo investire quanto tu vai investi testa prova vivi e ti assicuro che tutto quello che imparerai ti servirà no per una vita per due tre cioè servirà per tre vite veramente perché ti impari ovviamente come la vita cosa che ovviamente non impari a scuola eh non l'università dove non ti insegneranno assolutamente nulla per quanto riguarda la vita reale ti insegneranno solamente come essere un dipendente lavorare in un'azienda e per qualcun altro mentre con un tuo business sei libero sei tu il tuo boss e impari veramente tu principalmente come vivere secondo le tue regole senza problemi finanziari senza problemi di tempo questa regola con la tua famiglia ovviamente io ho 29 anni cioè ovviamente non ho la famiglia e magari certi ce l'hanno però in questo momento io non ce l'ho quindi comunque mi sento libro di fare come voglio e soprattutto veramente questa sensazione di libertà è proprio quello che cercavo cioè essere libero di fare e poter dire quello che voglio senza ripercussioni e essere veramente libero allora ti ringrazio per avermi detto tutte queste cose perché quello che cerco di fare con questo podcast è proprio quello che stiamo facendo oggi cioè distillare delle informazioni che per chi non riesce ad ottenere successo per chi non ha la mentalità come la tua magari con questo podcast puoi iniziare a mettere giù qualche un po' le fondamenta della propria mentalità e quello che hai detto è limpido e chiaro cioè fare all in e non sei il primo a dirmelo perché chi non fa all in è come se mantenesse dietro di sé delle paure e quindi finché tu sei legato alla paura di perdere quella te la porti dietro nel business e quindi più hai paura di perdere più continuerai a come dire anche implicitamente anche inconsciamente a tirar dietro il tuo business cioè a come dire a tagliarti le gambe da solo quindi questa è una cosa molto interessante poi il fatto di vedere il mondo da una prospettiva nella quale sono io che cambio la situazione non c'è qualcun altro non sono le regole del sistema non c'è qualche credenza il karma piuttosto che i segni zodiacali che possono in qualche modo costruire il mio futuro sono io che costruisco il mio presente e il mio futuro quindi penso che hai trasmesso un messaggio di un'importanza colossale magari neanche rendendotene conto ti faccio cioè arriviamo verso la fine perché ti ho già preso 25 minuti ti vorrei chiedere se dovessi consigliare cioè dare tre consigli oppure quanti ne vuoi tu a una persona che è il te di 25 anni che però non ha visto quel ragazzo dell'Erasmus ok quindi che ha ancora la mente coperta da mille veli da tutta l'istruzione sbagliata su come funziona il mondo data dalla scuola che cosa gli diresti guarda allora prima di tutto regola numero uno investi in te stesso perché quando investi su te stesso è l'unico investimento che nessuno ti potrà mai togliere e soprattutto al più grande è alto ROI in assoluto ovvero ritorno sull'investimento se tu investi in te stesso investi in conoscenza ma conoscenza cioè da parte tu la compri da parte di qualcuno che veramente ce l'ha quella conoscenza tu veramente impari tantissimo come per esempio può succedere per appunto business di commerce dropshipping cioè tu impari attraverso l'e-commerce una miriade di altre cose che puoi sfruttare per il tuo futuro ok per esempio ok impari a fare dropshipping fai un po' di soldi ok impari a fare email marketing a quel punto ti impazzisci e dici ok mi piace l'email marketing voglio mi piace fare il copy voglio diventare un copywriter voglio aprire un'agenzia di email marketing ok mi piace facebook ads voglio fare l'agenzia di facebook ads magari se tu non vuoi continuare col dropshipping comunque ti apre una miriade di strade ok il business online ma la gente non capisce bene che a differenza delle altre cose il business online in generale ti permette di capire molte più cose ora questa è la cosa numero uno ovvero investi tutto il stesso il secondo suggerimento che vorrei dare è focalizzarsi su una cosa alla volta soprattutto all'inizio e non provare a rincorrere due tre ah ci sta amazon fba ah ci sta affiliate marketing ah ci sta vendo i corsi perché tutti vendono i corsi ah ci sta quell'altro che fa dropshipping e commerce funzionano tutti e non funziona nessuno che vuol dire che in ogni business sia in amazon sia i videocorsi soprattutto i corsi che tutti pensano ah vendono i corsi invece è uno dei business più difficili perché lo fanno tutti quanti è male in verità ogni business ha il 90% di persone che non fa una lira ok non fanno veramente zero quindi falliscono praticamente il 90% la differenza è che quel 10% si focalizza principalmente sul fare una cosa è farla bene studiare quello applicarsi provare testare vedere quello che funziona quello che no spingere scalare scaling ovvero soprattutto quanto riguarda dropshipping scaling e commerce significa trovare una cosa che funziona boom metterci il primo giorno ci metti 10 poi 20 50 100 1000 2000 finché non scale e finisci tutto il pubblico e ovviamente aumenti il fatturato notevolmente questo è il secondo mentre come terzo succedimento buttati cioè buttati fai all in perché non c'hai veramente nulla da perdere anzi l'unica cosa che c'è da perdere è il tuo futuro perché io penso che se non ci provi quella è la tua più grande sconfitta cioè non provarci è veramente uno dei più grandi fallimenti che una persona può subire ok grazie mille Stefano ti sei emozionato Daniele molti no ma a me piacciono un sacco io lo faccio faccio questi podcast ma perché arricchisce prima me che gli altri quindi sono più che felice di conoscere persone come te se qualcuno che ci sta ascoltando volesse iniziare magari a lavorare con gli e-commerce come fa a contattarti come fa a trovare i tuoi corsi le tue consulenze allora vabbè Stefano Montana se scrivi Stefano Montana su Google ti esce tutto il mondo su YouTube ho un sacco di video Facebook proprio interi video tutorial su YouTube gratuiti corsi gratuiti su YouTube per tutti quanti per iniziare diciamo che ho creato quel canale soprattutto il mio canale Stefano Montana soprattutto per far capire alle persone far rientrare in questo mondo quindi con corsi gratuiti che chiunque può vedere comunque sono corsi completi assolutamente gratuiti poi ho creato dei corsi avanzati per chi veramente vuole portare il proprio business a livello successivo e si trovano su www.montanabusinessonline.com comunque se voi cercate Stefano Montana trovate tutto quanto su Google trovate tutti i miei siti tutti i miei link e qualsiasi cosa mi contattate su Instagram Stefano Montana Facebook email info.montanabusinessonline info.montanabusinessonline.com e comunque sono online ok lasceremo il link del sito qui in descrizione sia nel podcast che nel video per chi ti vuole trovare guarda ti ringrazio siamo a 30 minuti spaccati ti ringrazio per avermeli dedicati e spero di vederci presto magari a Mosca chi lo sa si si ti aspetto qua a Mosca anche se non puoi entrare però per il momento dopo la pandemia ok dai ti aspetta a presto ciao ciao Daniele un abbraccio ciao 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 Grazie a tutti.